partita la quarta siamo alla presentazione della numero tre Filippo Perazzolo uno Jacopo Grigio in due Lorenzo Coan tre Giovanni Busato alla quattro Leonardo Vendraminetto alla cinque Matteo Rossi alla sei Alessandro Vicentino alla sette Tommaso Townsend otto Grazie a tutti 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 Tazzi in seconda corsia uno otto e settantasette per la vittoria su Vianegai nell'ordine ci siamo con la terza